Sono Alberto Muscio, sono un docente del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena in Reggio Emilia. Oggi, alla settimana della bioarchitettura della domotica, ho relazionato su alcune attività di ambito impiantistico che abbiamo recentemente avviato nel settore generale delle bioenergie, in particolare dello sfruttamento energetico delle biomassie di origine animale e vegetale. Le nostre attività verte principalmente sugli aspetti impiantistici, in particolare noi storicamente ci occupiamo di efficienza energetica e confort in edilizia. Alcune delle tecnologie che normalmente noi applichiamo, studiamo in ambito edilizia, abbiamo visto essere perfettamente applicabili a questo settore della bioenergia, che è un settore in fortissima espansione e quindi per questo è passibile di ottimizzazioni sotto diversi aspetti. Ad esempio, noi lavoriamo sul controllo degli apporti solari negli edifici, ma il controllo degli apporti solari negli impianti di fermentazione anaerobica di biogas è cruciale per stabilizzare le temperature di questi bagni di fermentazione batterica e quindi massimizzare la produttività. Una cosa molto interessante che lavorando in questi settori ci capita di vedere è che si sta sviluppando in Italia tutta una serie di attori locali che si occupano della progettazione, degli impianti, della realizzazione dei sottocomponenti di impianto, della gestione. Ovviamente c'è l'interesse del settore agricolo che è estremamente attento a questa tecnologia perché si sposa perfettamente con quella che è l'agricoltura e l'agrozootecnia tradizionale emiliana. Si sta sviluppando tutto un settore che in questo momento invece vedeva prevalentemente importare tecnologie e prodotti dall'estero, prevalentemente al nord Europa. Noi interagendo con svariate aziende che si occupano di progettazione e di impiantistica ci troviamo a collaborare su diverse soluzioni tecnologiche che sono in realtà innovative anche per gli ambiti, per i settori e i territori del nord Europa da cui abbiamo imporato tecnologie e questo è una cosa che dà molta soddisfazione.